Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, tratto chiuso tra Valdarno e Arezzo in entrambe le direzioni con traffico bloccato e 6 km di coda in direzione Roma e 5 km di coda in direzione Bologna. Ci sono anche 3 km di coda tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Bologna e per traffico intenso in direzione Roma, code tra Firenze Sud e Incisa e Reggello. Sulla Fipili, code a tratti tra Lastra, Signia e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Monte Rigioni e Badesse e tra San Casciano, Valdipesa e Bargino. Sulla regionale, due cassi a restringimento di carreggiata all'altezza del km 270. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!